Vediamo insieme una scheda d'esame dei quiz ministeriali per la patente B attraverso la nostra applicazione gratuita Guida con me di cui potete trovare il link sotto il video. Se vi sarà piaciuto il video mettete un like, se volete iscrivetevi al canale per essere avvisati di ogni nuovo caricamento e soprattutto se avete qualche dubbio su qualche quiz che vediamo in questa scheda mettete un post sotto il video e noi vi risponderemo. Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata bisogna tenere presente che ha il passo più rapido e quindi attraversa velocemente. Ovviamente la risposta corretta è falso perché è decisamente il contrario. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con ruote sporche di fango. Il segnale raffigurato in realtà indica il pericolo di strada sdrucciolevole, cioè una strada che può diventare scivolosa in determinate condizioni meteorologiche o di aderenza stradale. Quindi la risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 9 alle ore 17. Vediamo di analizzarle, è un segnale di indicazione di come funziona la sosta del parcheggio nel centro abitato. È vietata la sosta dalle ore 7 alle ore 9 ed è vietata la sosta dalle 17 alle 20. Viceversa, il parcheggio è consentito dalle 9 alle ore 17 e dalle 20 alle ore 7. Quindi andiamo a vedere se si può sostare dalle 9 alle 17. Questa fascia oraria è a fianco del simbolo del parcheggio, quindi la risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato impone di circolare ad una velocità di almeno 30 km all'ora. È un segnale di prescrizione di obbligo di limite minimo di velocità sotto il quale non si deve scendere perché altrimenti si intraccia il traffico. Quindi la risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato all'incrocio ci dà la precedenza sui veicoli provenienti sia da destra che da sinistra. È un'intersezione con diritto di precedenza, quindi la risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza. Come abbiamo visto prima, la risposta corretta è vero. Nella carreggiata doppio senso di circolazione, le strisce di mezzo in figura dividono i sensi di marcia. Una doppia striscia continua divide effettivamente i sensi di marcia. Quindi la risposta corretta è vero. Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre arrestarsi se non si è ancora occupato l'incrocio. L'agente preposto al traffico naturalmente significa che regola il traffico e un suono prolungato di fischietto indica di fermarsi a tutti i veicoli senza impegnare l'incrocio perché probabilmente dovrà passare qualche veicolo in servizio di emergenza. Quindi la risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica il nome del fiume in vicinanza del ponte che lo attraversa. La risposta corretta è vero. Il delineatore raffigurato divide la carreggiata da una pista ciclabile. In realtà questo delineatore si trova su sparti traffico, isole di traffico e così via e quindi indica tra l'altro il passaggio obbligatorio rispetto all'ostacolo sulla destra lasciando l'ostacolo alla nostra sinistra. Quindi la risposta corretta è falso. Il pannello integrativo in figura indica i giorni e le ore in cui si effettuano operazioni di pulizia della strada con autospazzatrici. La risposta corretta è vero. Quindi in questi orari non bisogna lasciare in sosta i veicoli. Nel caso in cui a un passaggio a livello ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi occorre sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria se necessario anche sfondando le barriere. La risposta corretta è vero. Il conducente deve stabilire il valore della istanza di sicurezza anche in base alla larghezza del veicolo di cui è alla guida. Naturalmente qui si parla della distanza di sicurezza rispetto ai veicoli che ci precedono e quindi la larghezza del veicolo non incide su questo tipo di distanza di sicurezza longitudinale. Se mai la distanza di sicurezza laterale è legata anche alla larghezza del veicolo ma in modalità di sorpasso, cioè quando dobbiamo sorpassare un altro veicolo. Quindi la risposta corretta in questo caso è falso. La distrazione del conducente può essere causata dalla ricerca dei comandi della radio o di altri apparecchi elettronici. La risposta corretta è vero. Nei centri urbani è consentito marciare per file paralleli in qualunque condizione di traffico. Questa affermazione non è vera in quanto si può marciare per file parallele soltanto in caso di traffico intenso. Quindi la risposta corretta è falso. Percorrendo una carreggiata a senso unico la svolta a sinistra si effettua segnalando in anticipo la manovra da compiere. Ovviamente questo vale in ogni caso, non solo sulle carreggiate a senso unico. Quindi la risposta corretta è vero. Nell'intersezione in figura, il veicolo M ha la precedenza perché è in servizio pubblico. Dunque, i veicoli in servizio pubblico che però non siano tram non hanno la precedenza assoluta sugli altri veicoli. Solo il tram ha la precedenza negli incroci chiesti nei quiz. Quindi la risposta corretta è falso. È consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione purché la manovra venga effettuata con attenzione? Naturalmente la risposta corretta è falso. Non si può sorpassare né sulle corsie di accelerazione né sulle corsie di decelerazione. Ricordiamoci che la corsia di accelerazione serve per entrare, perché, per esempio, in un'autostrada o in una strada esterubana principale non si può effettuare un sorpasso sulla corsia di accelerazione perché risulterebbe pericoloso e limiterebbe anche la visibilità all'altro veicolo che vogliamo sorpassare. La sosta è vietata nelle curve, ma fuori dai centri abitati e sulle strade di scorrimento non è vietata in loro prossimità. La risposta corretta è falso. È vietata anche in vicinanza. I rimorchi devono avere targa propria, ovviamente perché sono veicoli che vengono omologati in fase di matricolazione con una propria targa indipendente da quella della motrice. Infatti si possono spostare da una motrice all'altra purché siano compatibili, quindi la risposta corretta è vero. Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono sostituire in ogni caso il triangolo mobile di pericolo. Naturalmente non c'entra nulla. Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti devono essere indossate da chi effettua delle operazioni al di fuori del veicolo, per esempio sostituzione di una ruota, eccetera, e anche per collocare, andare a riprendere il triangolo mobile di pericolo. Quindi la risposta corretta è falso. Il simbolo raffigurato è posto su una spia luce verde. Si tratta di una spia e del simbolo dei proiettori a luce anabbagliante anteriori che, non essendo pericolosi per gli altri, hanno come segnalazione una spia di colore verde. Quindi la risposta corretta è vero. Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotore e due ruote, solo se minorenni. Questa affermazione, naturalmente, non è valida, nel senso che anche i maggiorenni devono indossare e allacciare il casco. Quindi la risposta corretta è falso. La revoca della patente è disposta quando il titolare, sottoposto ad esame di revisione, non risulti più donna alla guida. Certamente è così, perché la revoca è un procedimento irreversibile, cioè la patente viene tolta definitivamente quando si perdono i requisiti per mantenerla. La risposta corretta è vero. Quando si deve far scendere un passeggero, bisogna tenere presente che l'apertura della portiera di destra è priva di qualsiasi rischio o pericolo. Ciò, naturalmente, non è vero, perché se facciamo scendere un passeggero, comunque anche dal lato marciapiede bisogna stare attenti a non urtare contro dei pedoni che stiano camminando su marciapiede. Quindi la risposta corretta è falso. Lo stato di shock non può dipendere da forti emozioni. Dunque, lo stato di shock si presenta in seguito a varie conseguenze, traumi e così via, naturalmente anche in seguito a un forte spavento o una forte emozione. Quindi la risposta corretta è falso. In caso di incidente stradale il soccorritore deve somministrare farmaci alla vittima se la stessa non ha specifica competenza medica. Ovviamente non si devono mai somministrare farmaci perché non possiamo sapere se la vittima è allergica a determinati farmaci. Quindi la risposta corretta è falso. La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima. Non c'entra nulla. Se si presta soccorso comunque è escluso l'arresto preventivo in caso di fuga, in caso di avvenuta fuga, cioè di allontanamento dalla zona dell'incidente. Ma la responsabilità penale comunque rimane anche se prestiamo soccorso alla vittima e se la colpa dell'incidente è nostra. Quindi la risposta corretta è falso. Al momento dello smaltimento dell'olio del motore bisogna evitare che venga a contatto con la pelle per un tempo prolungato. Infatti è fortemente contaminante. Quindi la risposta corretta è vero. Per una maggiore sicurezza bisogna controllare le condizioni dei pneumatici anche sui lati per prevenire improvvivi scoppi o sgonfiamenti. La risposta corretta è vero. Sia il battistrada, sia i fianchi. Abbiamo superato l'esame col 100% delle risposte. Tuttavia possiamo controllare risposta per risposta andando a vedere l'elenco qui sotto o anche addirittura rivedendo i singoli quiz. noi vi diamo appuntamento alla prossima scheda d'esame. Buono studio a tutti!